Spero che mi sentiate Dragon Ball Legends Tanto blocco il microfono mentre carica Aspettate che adesso condivido Sì devo andare qui Sì No Discord andiamo su Discord Qui Qui Ma avranno diritto a una sola settimana di vacanza Durante le festività Queste sono le regole Vabbè Non devo andare qui 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 Aspettate che è disattivo adesso Grazie Bene ce l'ho fatta Chi è spettatori uniti Ma 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 c'è il mio eco sotto Adesso non c'è più Mamma Bella E tu vuoi sapere il giorno di quando si sveglia Stai vicino alla mamma Stai molto attenta Ho perso una cuffia Che bello Che bello Beh visto che la wifi è lenta Posso anche aspettare Che bello Ho ritrovati la cuffietta Ho ritrovati la cuffietta Ho ritrovati la cuffietta Beh Adesso mentre scarica Aspettiamo Beh beh twitch beta Per fare la live è buono Se lo sapevo prima Se lo sapevo prima la facevo su cod Prima di disinstallarlo Non so se può fare anche su Nintendo Switch Perché se c'è su Nintendo Switch La faccio su Mamma mia sto microfono Senoverse 2 Spiro il drago la trilogia Però sto microfono ha rotto le palle Su Rocket League Fortnite Minecraft Spero modifichiamo un po' la live Non si può modificare Allora facciamo così E' così Mentre aspettate il carica Se volete uscito pure dalla live Intanto fra 5 minuti Inizierò a parlare Quindi Rientrate fra 5 minuti Se volete Faccio vedere i miei personaggi che ho Il livello che sono Sono Molto più deboli di Plastiken Quindi Io vado a mangiare qualcosa Ciao Grazie Io ho fatto Ma visto che ci sono Problemi di connessione Esco dalla live Faccio domani Ciao Grazie a tutti